Una buona giornata e pronti per la lettura dei giornali. Questa è la rassegna stampa di Fano TV. Leggeremo come sempre il Corriere Adriatico e l'Arresto del Carlino sulle pagine locali e intanto iniziamo il nostro intervento con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. È il Beato Papa Benedetto XI. Era Nicolò di Boccassio, nacque a Treviso, appunto nel XIII secolo, domenicano dottore in teologia. Fu un abile diplomatico, tanto che il suo predecessore, Papa Bonifacio VIII, lo scelse per negoziare la pace tra i re di Francia e Ungheria, proprio come al giorno d'oggi ha fatto Papa Francesco con il Cardinale Zuppi. Allora la missione di Papa Benedetto XI ebbe successo e noi facciamo il tifo perché l'abbia anche il Cardinale Zuppi tra Russia e Ucraina. Bene, ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo che il tempo oggi rimane solleggiato con qualche velatura di passaggio su tutta la regione. Le temperature sono in aumento, le massime arriveranno fino a 31-32 gradi, le minime si sono attestate questa notte intorno ai 20 gradi. I venti sulle coste spireranno da una direzione di nord e nord-ovest, mentre all'interno da nord-nord-est. E proprio con il tempo introduciamo il nostro intervento con il bagnino di questa settimana che è Mauro Talamelli dei Bagni La Baia. Mauro, che cosa accade con il tempo? Non ci si capisce più niente. Ieri doveva essere una bella giornata, invece nel pomeriggio è successo il diluvio. Buongiorno Massimo. Come si parlava prima, purtroppo il tempo sta cambiando, il clima. Con l'inalzamento delle temperature in un'ora ti cambia tutto e poi ritorna il bello. Stiamo diventando come i tropici. Senti, ieri il maltempo ha provocato qualche danno lì nella concessione? No, no, danno no, solo pioggia. Quindi gli ombrelloni non hanno avuto problemi, i lettini, tutto a posto, insomma. Tutto a posto, sì. Oggi vedo una bellissima panoramica luminosa, cielo sereno, azzurro, mare calmo, insomma una situazione ideale. Sì, speriamo che mantenga. Comunque le previsioni mettono ottimo, il tempo bello tutto il giorno. Quindi, anzi, per alcuni giorni mette anche il caldo grande. Quindi l'unica bella soluzione è quella di tuffarsi in acqua e godere un po' di fresco. Mauro, senti, una curiosità, quali sono le richieste che vengono fatte maggiormente da parte dei turisti al bagnino che è lì presente con tutti i suoi servizi? Innanzitutto le condizioni meteo, quelle tutti e tutti le chiedono, e la situazione dell'acqua per questa stagione, un pochino anomala, visto l'alluvione che ha fatto due mesi fa. Per il resto, solite richieste per i bambini, cose così, ecco. Meteo e condizioni dell'acqua. Benissimo. Ok, Mauro, grazie per questo piccolo incontro, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi. E poi ancora domani ci sentiremo per inaugurare appunto la giornata. Grazie a tutti voi, buona giornata. Veniamo ora alle previsioni del tempo, no? L'abbiamo già viste, l'abbiamo già viste e speriamo che siano buone veramente perché ci condizionano un po' tutti gli appuntamenti della giornata. Ed ora apriamo il giornale sulla notizia del giorno. La vediamo qui pubblicata con grande evidenza sul resto del Carlino. Ovviamente tutti i giornali ne parlano, anche quelli nazionali. Morto Arnaldo Forlani, l'ex leader della democrazia cristiana, si è spento ieri sera nella sua casa di Roma. Aveva 97 anni. Ha caratterizzato un'epoca nel secolo scorso, un leader politico, un leader politico del nostro territorio. Forlani era di Pesaro, ovviamente poi è andato a Roma, dove ha cominciato gli alti vertici della sua carriera politica, carriera politica però che aveva iniziato proprio a Pesaro. Vediamo come lo ricordano i giornali questa mattina. Espirato ieri sera attorno alle 22, il dolore dei figli, perdita incolmabile, hanno dichiarato. Pioggia di messaggi nella casa all'Eur. Ebbene, ieri Arnaldo Forlani se n'è andato con altrettanta discrezione come era vissuto. Se n'è andato intorno alle 22, dopo una giornata, in cui non si era sentito affatto bene. Insomma, non è che è stato preceduto da grandi segnali questa sua dipartita. Un giorno, un giorno poi tutto è precipitato. Ha lasciato un grande vuoto, parla per conto dei fratelli Luigi e Marco, suo figlio Alessandro, ex senatore dell'Udc. Per noi figli è stato un esempio, come lo è stato per tutti. Sarà difficile colmare questo vuoto. Ebbene, laurea in giurisprudenza, giornalista, Arnaldo Forlani, debutò nel modesto oratorio della democrazia cristiana pesarese fino a diventare consigliere segretario provinciale e poi consigliere provinciale e comunale. E poi la sua andata a Roma, dove scalò appunto i vertici del partito. Fu un leader importante, fu un ministro della difesa, degli affari esteri, vicepresidente del Consiglio e fu anche presidente del Consiglio dei Ministri. Tra scossoni, ondate, lotte di correnti, controcorrenti, arrivò all'età laurea, quella del CAF, ovvero dell'asse politico, tra Craxi, Andreotti, Forlani. E accompagnò il paese fino alla Seconda Repubblica. Fu segretario della democrazia cristiana dal febbraio del 1989 all'ottobre del 1992, prima di cedere appunto il testimone Ammino Martinazzoli. E poi alla fine cadde sotto la scure di mani pulite. E poi il processo Enimonte. Forlani dovette rassegnarsi alla sconfitta, ma con il sangue sportivo nelle vene, aveva giocato nella visse da giovane, e disse di ritenere ingiusta la condanna e di accettarla come ha fatto un paragone, come l'accicuta da bere. E poi si è ritirato completamente dalla politica e da allora di lui si è saputo sempre molto, molto poco finché la sua dipartita nella giornata di ieri. Morto Forlani a 97 anni. Veniamo agli altri argomenti. Ci sono ancora problemi di carattere turistico a Pesaro tra chi vuole la musica e chi vuole dormire. Ebbene, gli eccessi dei decibel provocano veramente delle grandi contese. Una di queste è a Sottomonte. Finisce a carte bollate. Musica fino alle tre di notte. Non dormiamo, hanno detto i residenti. E presentano un esposto. Ci sono proteste di chi vive nella zona dei Gelsi, così viene denominato questo piccolo quartiere, dopo un acceso confronto notturno sulla ciclabile. Nel Mirino ci sono due locali molto frequentati dai giovani. Sono contestate le regole sui decibel. E questi locali sono i bagni bibi ed anche il maschenada. Un paio di residenti hanno messo di mezzo gli avvocati armati di certificato per quanto riguarda anche il volume dei decibel appunto per far terminare questo chiasso che per loro è esasperante. La situazione è precipitata l'altra notte quando un residente intorno a 1.30, quindi a notte inoltrata, è sceso sulla ciclabile per contestare il livello della musica e si è rischiato lo scontro fisico con i gestori appunto dei locali. La battaglia degli albergatori. Troppo caos, i turisti scappano. Ormai qui è un Luna Park all'aperto. Parole di fuoco contro il comune e non solo. Servono controlli per i decibel e più forze dell'ordine. Sono dei importanti interlocutori di carattere turistico che si sono riuniti e hanno lanciato questa accusa ieri nella giornata di Pesaro. Sono Paolo Costantini, Nardo Filippetti, Fabrizio Oliva e Fabio Fazzi, figlio di Iuri. Li vediamo qui in questa fotografia. Ruota panoramica. Restiamo sempre nel settore turistico a Pesaro e vediamo come questa attrazione viene proposta per attirare gente e promuovere la città. Da domani comincia a girare, verrà messa in moto. Le polemiche ovviamente ci sono sempre. C'è a chi piace, c'è a chi non piace. Comunque il biglietto costerà 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Non c'è limite di età. Ci possono andare anche i novantenni a godere questa bella vista da un'altezza di 35 metri. I commercianti intorno alla palla sono soddisfatti perché la palla ovviamente sarà una forza di attrazione anche per tutto il contorno che la circonda. Speriamo che porti gente hanno detto perché finora se ne è vista poca. Il gestore Massimo Eicel dice spazio anche ai disabili. Resteremo qui fino al 31 ottobre. E poi vediamo questa notizia curiosa. C'è una volpe che ha abbandonato il bosco e vive in città. Gira dalla parte del porto. E qui cosa fa? Sgaiattola, cammina furtiva. Cerca soprattutto da mangiare. Claudio Zanutel, che l'ha vista, dice si è arrampicata su un capanno per fare merenda e si è affacciata nella nostra cucina. Ma dovrebbe però vivere in un bosco. E soprattutto la si è vista salire su un tetto per raggiungere un albero di fichi e qui poi ha fatto una piccola scorpacciata. Quindi ha mangiato dei fichi e poi se n'è andata. Comunque ovviamente questo animale selvatico in città non potrebbe vivere perché poi non è che ha tante possibilità ma ha molte anche pericoli di vivere una vita adeguata. Lutto cittadino per Piero Biagini a Monbaroccio. Un lutto che ha destato sensazione e emozione in tutta la città. Grazie per tutto ciò che hai fatto. Monbaroccio saluta l'uomo che ha dato tutto se stesso per la comunità. I musei sono la sua opera più bella. Ebbene Piero Biagini è stato un insegnante molto importante e soprattutto un uomo che ha riversato negli altri la sua passione per i musei. E poi anche per quanto riguarda lo sport passando per l'impegno politico seduto sui banchi del Consiglio Comunale e nelle vesti del Presidente della Proloco. Un uomo che ha vocato tutto se stesso alla promozione del suo centro, del suo paese e ha fatto tanto sia per la cultura che per l'economia. Perché poi turismo vuol dire economia. Ed ora passiamo nella pagina di Fano. Siamo nell'articolo di apertura e vediamo che si parla della guardia medica. Sì, perché l'altro giorno è successo lo chiamiamo al momento un disguido. Guardia medica chiusa, disagi e proteste. Li evidenzia questi disagi e queste proteste la consigliera regionale, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Marta Ruggeri, che chiede appunto all'assessore Salta Martini che cosa è accaduto alla guardia medica di Fano dove coloro che avevano bisogno dell'aiuto del medico si sono trovati l'ufficio deserto. Non c'era nessuna comunicazione. Loro hanno creduto che il medico fosse in visita all'esterno da qualche casa, in qualche famiglia dove era necessario il suo aiuto e in realtà lui non si è mai presentato e quindi questa attesa è stata inutile. Diverse persone sono rimaste in attesa ore davanti al portone serrato. Quindi un disservizio. Lo stesso direttore del distretto, Giovanni Guidi, dice purtroppo il medico si è sentito male, il medico di turno, e non ha avvisato nessuno. Se lo avessimo saputo avremmo avvisato noi cittadini delle possibilità di rivolgersi alle sedi di Calcinelli e di Fossombrone per andare alla guardia medica a andare a Fossombrone. Purtroppo, insomma, non è che è lì dietro la porta. Purtroppo tutto ciò non è accaduto, tanto che diverse persone sono rimaste in attesa ore davanti al portone chiuso. Ebbene è stato un caso straordinario, ha detto Guidi, che non era mai capitato negli ultimi dieci anni, ce ne scusiamo con i cittadini. Nuova piscina, che spazio ci sarà per i disabili? Ebbene, la nuova piscina che la Fondazione Carifano sta ormai per inaugurare, tra poco sarà la conclusione dei lavori nei pressi dell'aeroporto, ha anche un settore per la riabilitazione dei disabili. Ora però ci si chiede che cosa farà, che fine faranno le strutture attualmente in uso e quali condizioni verranno applicate per i disabili che vorranno appunto usufruire di questo servizio. È un punto interrogativo che pone Romina Alesiani, che è la responsabile di IcePod, un'associazione appunto che si occupa della disabilità. Potenziare l'organico sit-in al commissariato è previsto oggi alle 11 davanti al commissariato di Fano. Ovviamente non si protesta contro i poliziotti che sono dentro, ma sono i poliziotti stessi che protestano, che evidenziano, diciamo meglio, la necessità di rimpinguare il commissariato di Fano, che difetta, difetta di organico. Ci sono pochi poliziotti in servizio e questo è un danno per il controllo del territorio, che avrebbe bisogno di più pattuglie giorno e notte a perlustrare le zone critiche, la zona industriale, il centro storico, dove più frequentemente si susseguono furti in appartamento, furti nelle ditte. Ebbene, un'iniziativa questa orchestrata dal SIULP, lo scopo, spiega Marco Lanzi, che del SIULP è il segretario, è quello di rivolgere un appello politico ai politici locali e regionali per richiedere nelle sedi competenti il potenziamento dell'organico di commissariato. Credo che i politici locali e i politici regionali sappiano da tempo quali sono le condizioni del commissariato di Fano, solo che fino adesso si è fatto poco e non si è migliorato poco e niente. Così ha allato la cucciola di Daino, scampata dai lupi. A Barchi c'è Walter Fiscaletti, la Fiscaletti è un parrucchiere, quindi fa un mestiere tutto suo che non ha lo che fare con gli animali. In realtà ha adottato una piccola cerbiatta la cui famiglia è stata veramente azzannata dai lupi, quindi non c'è più. Lui ha preso questa piccola cerbiatta e ora l'ha allatta quattro volte al giorno. E la piccola si è adattata benissimo nelle mani di questo suo salvatore. Adesso fa quattro poppate al giorno e nel giro di poco è cresciuta tanto. È bello, quest'articola è consolante. E poi per quanto riguarda la politica vediamo che c'è un contrasto all'interno del centro-sinistra per quanto riguarda le primarie, primarie che sono state invocate dall'assessore Samuele Mascarin. Ebbene, ci sono voci contrarie. Una di queste è quella del consigliere Giampiero Pedini. Poi vediamo chi è che ha aderito a questa iniziativa. Hanno aderito all'interno del Partito Democratico l'assessore Dimitri Tinti, la capogruppo Agnese Giacomoni e il consigliere Giovanni Clini. Non hanno firmato l'assessore Cristian Fanesi e i consiglieri del PD Futuro Democratico è una corrente appunto del Partito Democratico. Tra questi Enrico Nicolelli commenta prima si deve pensare alla coalizione poi alle primarie. C'è anche una dichiarazione di Etienne Lucarelli che dice sulle primarie deciderà il gruppo delle civiche. Intanto le due anime del Partito Democratico Fanese stanno tentando di trovare un accordo sulla figura del segretario che ancora manca dopo appunto la scomparsa di quello che era prima. E a questo punto vediamo una pagina di Urbino prima di passare al Corriere Adriatico. Noi giovani campioni vogliamo salvare le vite. È un gruppo di ragazzi che milita nella Croce Rossa. Il Comitato della Croce Rossa di Urbino vince la gara regionale di primo soccorso tra le prove affrontate a potenza picena anche manovre di maxi emergenza. Sono dei giovani animati sia dalle loro capacità professionali sia da tanto tanto entusiasmo il che pone una carica in più di vitalità, di servizio, di impegno per la salvaguardia della vita umana. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. Ora apriamo il Corriere Adriatico. Vediamo che l'apertura è dedicata alla toponomastica fanese. Toponomastica fanese che fino a ieri possiamo dire difettava di diversi nomi, di vie, di numeri civici che rendeva molto difficili le operazioni di soccorso quando queste si rendevano necessarie in alcune zone di campagna e poi anche il recapito della corrispondenza dei pacchi insomma chi doveva poi trovare un indirizzo si trovava in difficoltà e spesso si trovava non avendo i riferimenti delle vie e dei numeri civici in aperta campagna senza sapere dove andare. E allora si è mobilitata la commissione toponomastica che in certe zone in modo particolare a Metauriglia ma anche a Gimarra ha rimediato al problema. Due vie importanti sono state denominate a Metauriglia. Si tratta di via degli Ortolani un nome veramente topico per Metauriglia che era la zona degli orti più produttivi nel prima metà del secolo scorso e poi la via dei Mezzadri la via appunto che evidenzia anche il valore agricolo di tutta la piana di Metauriglia e poi dicevo ci sono denominazioni in diversi punti della città che ricordano medici che hanno veramente dato un segnale importante non solo dal punto di vista medico ma anche dal punto come loro hanno così risolto il loro rapporto con gli altri un rapporto molto disponibile un rapporto pieno di amore e di delicatezza oltre a quello professionale appunto per salvare una vita umana. E vediamo chi sono questi medici a cui vengono intitolate le nuove vie si tratta di Ettore Carloni ginecologo nato nel 1899 ed è deceduto nel 1955 e poi vediamo Mauro Macchi pediatra ancora Giuseppe Biozzi oculista e Ciro Piccioli medico condotto questi sono i medici a cui vengono intitolati nuove vie poi vediamo che anche a Bellocchi assumerà la denominazione di Ottava Strada anche la nuova Bretella che raggiunge via di Novampa appunto dall'attuale via Ottava Strada quindi c'è un prolungamento di 60 metri ieri è stata presentata la selezione provinciale di Miss Italia che avrà luogo a Torrette domani alle 21.30 nei giardini Tonucci in Largo Bellariva proprio al centro di Torrette una tappa a cui parteciperanno una ventina di belle ragazze dai 18 ai 30 anni alle quali poi potranno aggiungersi se vorranno le clienti di tutti i campeggi che hanno tanta disponibilità di posti per le vacanze di quest'anno e quindi ci sono famiglie e tanti giovani che amano questo genere di turismo una bella iniziativa che animerà appunto l'estate di Torrette che poi dobbiamo dire è uno dei centri primari del turismo fanese anche il Corriere di Attico si occupa del disservizio della Guardia Medica sede sede aperta ma il dottore non c'è lunga attesa senza frutto davanti all'ufficio ancora una raccolta di firme per questa volta non per contrastare la pedonalizzazione del centro storico come è avvenuto fino ad oggi ma per richiederla viene richiesta soprattutto in via Bovio in 48 ore raccolte 250 firme da un titolare di un negozio si tratta di Enrico Zampa titolare insieme con la sorella Elena della gastronomia Ambrosia in via Bovio che ha promosso una raccolta di firme proprio per pedonalizzare la strada dopo che una macchina coinvolta in un incidente è andata a sbattere contro i tavolini che erano all'aperto una vettura asperonata un paio di tavoli esterni in via Cavour per poi strofinarsi l'agente del posto afferma che il mezzo era lo stesso contro il muro di un negozio proprio nello spazio tra le due vetrine quindi c'è una commissione auto tavolini all'aperto che ovviamente non va bene vediamo a San Lorenzo in campo intercettati 900 mila euro per i danni all'alluvione il sindaco dell'Onti spiega che saranno risolte le due maggiori criticità San Vito e Mirabello e questa era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento alle 20.30 di questa sera per il TG di Fano TV Occhio alla Notizia e domani per la rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci